Tanta gente e soprattutto clima di grande ottimismo per i vini toscani Alvinitali, la grande manifestazione dedicata al vino a Verona, giunta alla sua 53esima edizione. La Toscana si è imposta sulle altre regioni, con una presenza massiccia dei consorsi e con il numero maggiore di aziende presenti, 705 per l'esattezza, presenti nel grande padiglione preso d'assalto da compratori italiani ed esteri che hanno chiuso, contratti e assaggiato i pregiati vini in fiera. Risultati molto positivi dunque per la regione toscana, proiettata nelle trattative europee per la politica agricola comune post-2020 e soddisfatta del grande interesse dimostrato da mercati come la Russia e la Cina, quest'ultima cresciuta del 2% in termini di operatori presenti al Vinitali, seguita da Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Canada. La maggior parte delle aziende toscane presenti al Vinitali arrivava dal Senese, a seguire quelle provenienti da Firenze e da Grosseto, per una regione che nel 2018, secondo i dati di Artea, ha prodotto 2 milioni e 400 mila ettolitri di vino, ovvero più 44% rispetto al 2017, fortemente condizionato dal clima avverso. Ora l'obiettivo della regione toscana è proprio avviare politiche capaci di far fronte ai cambiamenti climatici, per proteggere il proprio patrimonio vitivinicolo, tutelare l'ambiente e dare impulso a consorzi e aziende.